Lieve aumento per la borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,53% a 27.649,78 punti, Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 8.296,53 punti. Sale il Nikkei 225, più 0,71%, come l'indice cinese, 1,15%. Seduta tonica per le borse del vecchio continente. Reste indietro piazza affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Resta vicino alla parità francoforte, più 0,08%. Piatta Londra, che tiene la parità, sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,47%. Si distingue a piazza affari il settore beni per la casa ed esibisce un più 0,75% sul precedente Brillante rialzo per Ferragamo, che lievita in modo perpotente, con un guadagno del 4,43%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia delle vendite al dettaglio, che del PIL. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sulla produzione industriale, e dall'Italia la diffusione delle vendite al dettaglio. Grazie 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 Grazie